Amici, buongiorno! Oggi andremo a Civita Campomarano, provincia di Campobasso, per visitare il famoso castello Angioino. Ora prendiamo l'autostrada, la A14, uscita San Salvo, direzione Isernia, poi destinazione Civita Campomarano, che comunque è provincia di Campobasso. A dopo amici, a dopo, ci vediamo più tardi. E mi raccomando, aiutatemi a far crescere il mio canale YouTube. Iscrivetevi, iscrivetevi al mio canale, aiutatemi a farlo crescere. Buona visione del video! Ciao, ciao, ciao! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.